Oggi abbiamo una proposta per la nostra giunta per una mobilità sostenibile a basso costo. Fano è la città dei bambini, da più di 25 anni che è stata proclamata città dei bambini. Per portare avanti questo progetto sono state fatte alcune cose inizialmente e poi dopo ci si è praticamente fermati. Nel quartiere di Sant'Orso e anche in altri quartieri è partito questo progetto, però ci sono delle cose che si possono fare davvero con poco costo e che si possono realizzare velocemente e che permetterebbero una mobilità diversa, sostenibile, a misura di bambino e in sicurezza. Oggi presentiamo un progetto che abbiamo avuto noi con i nostri tecnici che ci permette di andare in sicurezza, in bicicletta, dal Torrente Arzilla fino al Palazzetto dello Sport. Ovvero una ciclabile che dalla fine della ciclabile Fano Pesaro, Torrente Arzilla, siamo alla spiaggia dell'Arzilla, si costeggia il Torrente Arzilla, si passa al quartiere della Trave, cimitero, città, stadio e Palazzetto dello Sport. La cosa importante è che ci sono dei tratti già destinati alle peste ciclabili, però sono totalmente non in sicurezza. Con questo progetto invece si potrebbero mettere davvero in sicurezza, con poca spesa e anche in pochissimo tempo, realizzando un percorso davvero sicuro per le biciclette, in modo tale che si potrebbe cominciare a mettere in pratica quelli che erano gli orientamenti della città dei bambini, ovvero mettere al primo posto i bambini ed i pedoni, le macchine per ultimo. Con questa ciclabile ci si permette, permettiamo a tutti, di attraversare la città con sicurezza e davvero con poco costo ed in poco tempo, realizzabile in poco tempo.